Perché hai la corona? Perché sono il re dei franchi! Sono Carlo Magnum! Amo un altro! Addio! Oh no! Mi ha lasciato per un pezzo di cacca! Aiuto ragazzi! Sto male! Chiamate un'ambulanza! In English, please! Caramella, è mortadella, mandarino, bacinella! Mamma, c'è un mostro sotto il letto? Non c'è nulla! Buonanotte, amore! Come si dice in inglese? Queste sono le mie uova? Kiss, so love me! Di questo enigma, quanto fa 2x2 più 2x0? Sei stato adottato! Non siete voi i miei genitori biologici? Sì, siamo noi! Ma ora muoviti, che tra poco vengono a prenderti! Ehi Siri, la mia ragazza è morta! Mi dispiace, una barzelletta potrebbe aiutarti? Vai, sentiamo! Toc toc! Chi è? Sicuramente non la tua ragazza! Tre fratelli al funerale! Papà, era così buono che io ho lasciato 100 euro dentro la bara! Io gli ho lasciato 500 euro! Io gli ho lasciato 1400 euro! Cavolo, bravo! Ma come mai hai 600 euro in mano? Perché dentro la bara ho messo un assegno da 2000 euro e mi sono preso il resto! Ehi, hai le ascelle sporche! Dove? Bravo, abbiamo un volontario! Quando faccio acquisti online? 15 euro più 5 euro di spedizione! Non lo compro! 20 euro più spedizione gratuita! Prendi la mia carta! Papà, quanto guadagni in un'ora? Non sono affari tuoi! Dai, dimmelo per favore! Guadagno 100 euro l'ora! Bene, allora mi regali 100 euro? Mi hai fatto quella domanda solo per avere dei soldi? Sei la solita viziata! Scusami figliola, sono stato troppo severo! Tieni 100 euro! Ma cosa ci devi fare? Vorrei comprare un'ora del tuo tempo, così domani andiamo al parco insieme! Grazie a tutti!